Ciao a tutti, oggi prepareremo i niti di Pasqua al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente fuso, biscotti tipo frollini, amaretti, pasta sfoglia, uova di zucchero o di cioccolato e zucchero a velo per decorare. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale gli amaretti e i frollini ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere il cioccolato fondente fuso. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, formiamo i nostri nidi. versare il composto su metà della pasta sfoglia, livellare bene con una spatola, chiudere con il resto della pasta sfoglia sigillando bene i bordi. Dopo aver chiuse i bordi, formiamo 6 strisce da circa 4 cm ciascuna. Prendere la prima strisce e arrotolarla su se stessa formando un intreccio. Dopo averla arrotolata chiuderla formando una ciambella, chiudere bene il bordino e posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Cuocerli in forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti circa. I niti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuovere dalla teglia. Spolverizzare con zucchero a velo e decorare con le uova. Niti di Pasqua al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!